Musica Siamo in compagnia con Alberto Padovan, project manager di Farecantine, architettura del vino e in qualche modo, anzi direi in tutti i modi, partner di questa manifestazione. Alberto, tu ormai hai un rapporto consolidato, tra l'altro siamo a casa tua, siamo nella tua terra. Sì, quest'anno, secondo anno, anche partecipiamo come sponsor alla Mitola Europa Race, abito a Trieste, quindi lo faccio molto volentieri. Oggi vedremo dei territori magnifici, passeremo a Gorizia, sul Coglio, arriveremo fino a Cividale, ritorneremo a Trieste. Insomma, è un bellissimo percorso da vedere e per chi fa la gara veramente impegnativa. Tra l'altro, un percorso che è un po' anche il vostro motivo a fare cantine è un po' l'architettura in movimento. Sì, attraversiamo una zona boccata al vino dove ci sono tantissime cantine, tra le quali una che l'ho progettata in tempi che non esisteva ancora a fare cantine, ma è quella che mi ha dato il via a creare questa società. Ci fermeremo poi noi, ve la farò vedere, e ci fermeremo poi da Venica e Venica, che è un'altra cantina storica della zona, che ha degli ottimi vini, che poi ha sponsorizzato con i vini anche questa manifestazione. Tra l'altro, tu hai anche degli ospiti importanti che conosceremo nel corso della giornata. Sì, un amico, oltre che ospito, un grande amico, è Joslet Brida, della CAI. E quindi, appuntamento alla sosta prossima.